Il Comune di Siena ancora una volta ha rivolto ai giovani con una piattaforma informatica. Oggi presentiamo un protocollo d'intesa tra 19 enti, istituzioni e realtà di diverso tipo che va in una direzione ben precisa, mappare, conoscere e sapere i servizi che tutti questi enti e queste realtà mettono a disposizione dei ragazzi e delle ragazze della nostra città, che siano studenti e non, universitari e non, fuori sede o cittadini. Questo ci può servire innanzitutto per riuscire a ridisegnare i servizi in modo più efficiente, realizzare sinergie positive, costruire modalità di servizio che siano in qualche modo più rispondenti alle necessità e ai bisogni. Soprattutto anche per studenti fuori sede? Assolutamente, per questo abbiamo pensato ad uno strumento su cui stamani comincerà il nostro lavoro, e appunto vedo una piattaforma informatica che sarà il luogo unico dove ragazze e ragazze potranno trovare informazioni, ma riusciranno anche ad entrare in relazione con l'amministrazione attraverso un percorso di trasparenza, di cittadinanza e di partecipazione.